Davide Allegri non può ancora chiudersi definitivamente alle spalle la vicenda giudiziaria che lo coinvolse quando era assessore provinciale all'ambiente nel 2012. La Corte dei Conti di Bologna lo ha infatti condannato a pagare 15.000 euro per danni di immagine alla stessa provincia di Piacenza, la quale si è attivata per recuperare la somma. La richiesta iniziale della Procura Generale era addirittura di 200.000 euro. L'indagine, che portò anche al suo arresto, riguardava i reati di concussione e corruzione legati alle autorizzazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici. L'architetto Allegri, spiega l'avvocato Daniele Giacomazzi di Verona, che ha assistito l'ex assessore provinciale assieme al collega Stefano Zanini, è rimasto vittima di un cortocircuito del sistema giudiziario causato da una norma della riforma a Severino. In breve, nel 2014, per ragioni personali e per chiudere definitivamente questo capitolo, aggiunge l'avvocato, aveva deciso di patteggiare con la pena che gli fu sospesa. Quella norma, appena entrata in vigore però, fece in modo che scattasse anche la pretesa risarcitoria per i danni di immagine alla pubblica amministrazione, equiparando quindi il patteggiamento a una sentenza penale, trattandolo erroneamente come una missione di colpa. L'iter della Procura Generale ha dunque proseguito. Nelle scorse settimane è arrivata la sentenza che ridimensiona notevolmente la richiesta risarcitoria iniziale e contro la quale Allegri non ha ancora deciso se proporre appello.